Un po' di fantasia nella realtà, sempre italiana, abusarne, esporsi posando, quasi tutto. Ma viene in mente un po' tutto quello che è la cultura italiana quando parliamo di dolce vita, perché la dolce vita credo che sia un po' il modo di vivere degli italiani, anche questa filosofia che abbiamo, per cui ci conoscono anche all'estero, del fatto di dire domani un altro giorno. Jonas, il regista viene appunto dal mondo del rock, dal mondo più della musica, fa dei video bellissimi e quindi è stata così una bella idea, usarlo in termini come non mi piace. Però comunque è stata una bella idea che abbia accettato di fare questo spot, perché sicuramente darà un tono molto originale e nuovo. Quindi sono molto curiosa di vedere lo spot che non ho ancora visto e penso che abbia fatto un bellissimo lavoro. Martini e Dolce Gabbana sono in due modi diversi due icone dello stile italiano nel mondo e quindi hanno creato un prodotto nuovo e sicuramente sarà qualcosa di molto forte, credo. Ma lo berrei… potrei berlo in un bar come a casa di amici, però l'importante è che ci sono sempre degli amici per… si gode sempre di più quando c'è un momento di, come si dice in Francia, di partage, quando così si può condividere un momento di amicizia insieme, a quel punto credo che si può agire ancora di più bevendo una cosa che è buona da bere.